Un saluto a tutti voi miei cari amici dei social del canale youtube Fiorpodio 65 Aguilas Coop e grazie per essere in mia compagnia. Di cosa andiamo a parlare oggi? Non si parla d'altro, si parla di Yannick Sinner, da eroe a Vigliacco. Hai tradito l'Italia per la tua compagna russa e peggio di Melissa Satta. Quanti riferimenti, quanta storia, quanta cronaca e quanto gossip. Amici, vediamo che cosa è successo. Chiaramente Yannick Sinner, il nostro eroe, uno dei pochi numero uno italiani al mondo, soprattutto nel tennis, mai era successo che l'Italia avesse avuto un numero uno al mondo, al massimo abbia avuto un numero quattro, che è stato a grano panatta nel 1976. Questo ragazzo, che oggi ha 22 anni, ha battuto tutti i record, ha vinto già uno slam, ha vinto una Coppa Davis, ha vinto tutto e di più, ha vinto tanti tornei, Master 1000, eccetera. Ma che cosa succede? Arrivano le Olimpiadi, che si fanno ogni quattro anni, uno degli eventi più importanti al mondo, vuol dire, e Yannick Sinner dice, no, non vado a Parigi, non vado a fare le Olimpiadi. O la Tonsillite. Allora, a questo punto, lasciamo stare gli hater, lasciamo stare tutti quelli che gli vogliono male, lasciamo stare anche quelli, diciamo, del gossip russo, che se la sono presa molto molto male e hanno attaccato duramente il popolo italiano, a difesa della propria tennista Anna Kaliskaya, oggi numero 14 al mondo, che non è stata ammessa al torneo olimpico, perché lei era libera, quindi praticamente non è andata al torneo olimpico, quindi non c'era le Olimpiadi. Invece Sinner era testesere numero uno nel singolo e testesere numero uno nel doppio, insieme a Musetti, quindi praticamente il favoritissimo a vincere le Olimpiadi. E nel tennis, noi le Olimpiadi non le abbiamo mai vinte, quindi sarebbe stata un'occasione storica, sarebbe stata. Ma amici miei, non voglio parlare degli hater che l'hanno chiamato vigliacco, l'hanno chiamato traditore, ma la compagna russa, la tua compagna russa, da quando stai con lei non vinci più, è peggio di Melissa Satta. Perché è peggio di Melissa Satta? Perché Melissa Satta è stata la compagna di Matteo Berrettini. E stranamente Matteo Berrettini lascia Melissa Satta e vince sempre. Ha vinto due tornei adesso, è vero che sono due tornei 250, quindi quelli un po' più piccoli, ma intanto non perde più, vince sempre, si vede un Matteo Berrettini in forma, che sorride, vive questa sua storia d'amore con l'influencer Federica Lelli, che è un ex di Ultimo, tra l'altro, del cantante Ultimo, ma è diventato un altro tennista, un altro sportivo, sarebbe voluto andare all'Olimpiadi, ma la classifica non gliel'ha permesso. Sinner invece cosa succede? Sinner, quanto pare, ha fatto la fine di Matteo Berrettini quando stava con Melissa Satta. Ma Melissa Satta era nota, vogliamo dire al mondo del gossip, era nota che non capisse una mazza di sport, anche se è stata con sportivi come Bobo Vieri, ha sposato un calciatore Boateng del Milan, il colore, voglio dire, però di sport non ha mai capito nulla. Questa invece è una sportiva, è una tennista molto bella, perché da nessuno lo mette in dubbio, ma è una che di sport ne capisce. A questo punto cosa fanno? Lasciamo stare, ripeto, gli hater, che moltemente o hanno torto una ragione, sono fatti loro, ma ne parlano i medici, ne parlano gli infettivologi, quindi ne parla dottore Bassetti del San Martino di Genova e ne parla il dottore Pregliasco, quindi che tra l'altro è un noto infettivologo, l'abbiamo conosciuto durante il code di Milano. E che cosa dicono? Per quanto riguarda la tonsillite, o se è vero che una tonsillite ti può mettere nelle condizioni di lasciare un evento, rinunciare a un evento importantissimo come l'Olimpiadi. E Matteo Bassetti ci dice delle notizie clamorose. Dice, la tonsillite, allora dice, è chiaro che se devi preparare un evento, dice Matteo Bassetti, che ama Sinner, stima Sinner, gli piace molto questo atleta serio, eccetera, dice, però se devi preparare un evento importantissimo come l'Olimpiade, che si fa ogni 4 anni, non vai a fare le vacanze in Sardegna, molto in mente, può stare un giorno, due, tre, ma non 15 giorni, quanto sei stato tu, perché il rischio di ammalarti sono tanti, soprattutto se non sei abituato a quel tipo di vita, anche perché abbiamo conosciuto uno Gianni Sinner, sempre scrupoloso, meticoloso, nei suoi allenamenti, sempre con interviste sempre strette, eccetera, non ha mai parlato della vita privata con l'ex compagna che aveva la Maria Braccini, che ha tradito per Anna Kaliskaya, ha tradito, e lei lo dice, ha tradito perché ha scoperto sul suo cellulare dei messaggi addirittura otto che si scambiavano, Gianni Sinner nottefonda con Anna Kaliskaya, ma c'è un altro video, lo andate a vedere perché faccio anche riferimento ai video che ho fatti prima, ma cosa succede? E Bassetti prima e pregliasco dopo, ha sbagliato la preparazione, è chiaro che Bagnozzi, il suo allenatore e Garen Kail, non si vogliono vivi, anche perché avrebbero voluto vincere le Olimpiadi, ma uno che divince l'Australia Open, poi fa una bruttissima figura al torneo di Wimbledon, il torneo sull'erba, chiamano i Championship, vuol dire il campionato nel mondo del tennis, e esce ai quarti di finale contro Mesvedev, che ormai batteva da 4-5 volte, all'inizio ci ha sempre perso, poi ha cominciato a vincere, ma ci ha perso al quinto set e si vedeva dove ha avuto chiaramente un attacco di calore, non stava bene, anche perché a Wimbledon stava con la compagna Anna Kaliskaya, e dice che faceva nottefonda, ci sono dei testimoni che l'hanno visto nei locali di Londra, sino a nottefonda, cose non ha mai fatto Sinner, ecco perché sono molto preoccupati, non solamente i suoi allenatori, ma anche gli specialisti che hanno fatto questa intervista, perché è chiaramente facile parlare, si è ritirato, poi è tonsillito, eccetera, ma sono andati a vedere, eccetera, molti aether dicono, Alcaraz e Djokovic, che sono i suoi più grandi competitor, i suoi più grandi avversari, non avrebbero fatto quello che hai fatto tu, per la loro patria sarebbero andati anche malati a fare le Olimpiadi, lo stesso Musetti, caro Sinner, te lo dico io, che ha perso l'altro ieri la finale, vuol dire, a Umago, il giorno dopo stava alle Olimpiadi a strapazzare Monfils, a vincere, quindi un Gio, quindi ha fatto Umago, Parigi, in meno di 24 ore era di nuovo in campo, perché è bene stare magari nella stessa sede, ma questo ha fatto un trasferimento Croazia-Francia per poi scendere in campo e vincere, e baciava la bandiera italiana, cosa che non hai mai fatto tu. È vero che ci hai fatto vincere una Coppa Davis, nessuno ti toglie il merito, ma per quante volte non sei andato a giocare la Coppa Davis e ti hanno portato in finale di Coppa Davis i tuoi amici, i tuoi colleghi tennisti, la gente italiana ti ama e tutto, ma tu sei molto freddo, non è questo attaccamento alla nazione, non c'è, e si vede, caro Sinner, e si vede, e lo dicono anche i medici, lo dice anche Bregliasco, non si può fare una preparazione del genere prima di una Olimpiade, l'ha detto Bassetti prima e lo ripete Bregliasco dopo, non puoi fare una preparazione del genere, ma è fuori di ogni logica, tu stai andando a giocarti le Olimpiadi e lo fai da favorito numero uno nel singolo e da favorito numero uno nel doppio, così non andando alle Olimpiadi ha ucciso il tabellone, perché praticamente al posto di Yannickson abbiamo messo Vavassori, dall'altro ha passato anche un turno, quindi Vavassori, quindi guardate che cambio abbiamo avuto, io ho visto Djokovic vincere la partita e baciare la maglietta, ho visto Alcaraz baciare la maglietta perché stanno giocando per la propria nazione, stiamo alle Olimpiadi amici miei, Musetti ha vinto la partita di tennis, ha baciato la maglietta e più volte ha mostrato il pubblico il tricolore, la bandiera dell'Italia. Torniamo a Yannick Sinner, è chiaro che tutti ce l'hanno con questa tennista russa, Anna Kaliskaya, molto bella, molto presente nel mondo del gossip in Russia, ha fatto anche un calendario, si è scoperto che ha fatto anche un calendario dove è mezza nuda, tre quarti nuda, eccetera, ha fatto dei video, dei video particolarmente accesi, di rosso, diciamolo pure, eccetera, è chiaro che molto in mente ha una cognizione del tennis libertaria, che non è quella che si avvicina a quella di Yannick Sinner, Yannick Sinner che sino ad oggi non aveva mai parlato della sua vita privata e addirittura aveva lasciato la sua vecchia compagna Maria Braccini perché dopo un anno che stavano insieme aveva messo una foto su Instagram dove si prendevano per mano, invece di questa gli fa le dediche durante le interviste, quando vince le partite, parla sempre di questo amore, va a vedere le partite di lei, va a vedere quando si allena, come se avesse perso la testa. Abbiamo un'altra persona, un altro atleta, cioè, è paragonare Anna Kaliscaia che ha 25 anni a Melissa Satta che ne ha quasi 40 e ne ha combinati guai, Melissa Satta, tanti guai. L'ultima con Matteo Berrettini, amici perché a questo punto non ci sono più scusanti. Matteo Berrettini lascia Melissa Satta, si frequenta con questo influencer Federica Lelli e vince sempre. Matteo Berrettini sta vincendo sempre, in campo è un mostro, è tornato il Berrettini di un tempo che faceva paura a tutti e nel 2021 addirittura fa la finale a Wimbledon, persa poi con Djokovic, ma intanto arriva alla finale di Wimbledon, finale di Wimbledon che Yannick Sin non ha fatto mai, arrivato al massimo in sei finale, eccetera. Quest'anno poteva essere la volta buona, anche se non è arrivato molto in forma per il problema all'anca, eccetera. Ma, diciamo, come dare torto agli eter? Come possiamo dire, dire alle persone, no, stai sbagliando, eccetera, quando ti chiamano traditore, Djokovic e Alcaraz sarebbero andati per una tonsillite, eccetera. Infatti, sia Bassetti che Pregliasco dicono che con una tonsillite di quel tenore, come quella che ha Yannick Sin sarebbe potuto andare tranquillamente a fare le Olimpiadi, perché con un pochino di antibiotici sarebbe guarito. Molto probabilmente, mettono il dubbio, è stato tenuto fuori da questo grande vetrina mondiale, altrimenti da altre esigenze, quella di stare in compagnia della sua amata Anna Kaniskaya, alla faccia dell'amata Italia. Questa sicuramente è una bomba, quindi Yannick Sinner da eroe a Bigliacco. Hai tradito l'Italia per la tennista russa e peggio di Melissa Satta. Accuse molto dure da chi sino a ieri amava Yannick Sinner. Avevamo un numero uno, credo che sia Bagnaia e Yannick Sinner, i più forti che abbiamo negli sport, quindi nella MotoGP e nel tennis. Credo che questi siano il massimo che oggi esprima l'Italia a livello mondiale, poi nell'atletica abbiamo Tamberi, Jacobs e altri. Ma Yannick Sinner era visto come il ragazzo ideale per bene eccetera, questo pare che avesse perso la testa. Adesso si hanno perso anche le tracce. Non risponde sui social, perché sui social scrivono sul profilo di lei, dove è massacrata e sta facendo fronte comune a difesa di lei il gossip russo. Il gossip russo difende Anna Kaliskaya, dice non è colpa di Anna Kaliskaya, Anna Kaliskaya è una bravissima ragazza, una bravissima tennista, tutto quello che volete, non è colpa sua. Invece mi sa che il danno sta proprio lì. Quindi Anna Kaliskaya peggio di Melissa Satta. Amici miei, questo è l'avvio di oggi. Credo che sia stato di vostro interesse perché abbiamo approfondito tramite anche l'intervento di due esperti delle malattie infettive, il dottore Bassetti di Genova, il dottore Pregliasco di Milano, sempre presenti in ogni trasmissione televisiva durante il covid, che ci dicono che questa semplice tonsillite, magari che si può prendere, si è temuto all'inizio del covid, all'inizio si è temuto il covid, si sono fatti diversi tamponi a Sinner, alla fine si è visto che non è il covid, si pensava che andasse all'Olimpia e alla fine dice no, non vado perché ho la tonsillite, eccetera. Quando è una semplice tonsillite avrebbe con due o tre antibiotici potuto partecipare tranquillamente e forse chissà vincere le Olimpiadi. Amici miei, mi raccomando sul canale YouTube, like, i commenti, la campanellina per le notifiche e come dico sempre amici miei, più siamo meglio è, più grande è la nostra cassa di risonanza. Vi voglio bene, alla prossima!